Un'invasione pacifica di camicia azzurra è quella di ieri a Santa Maria di Licodia che per una giornata si è trasformata nella capitale dello scautismo della zona Etna Alto Simeto, in occasione della settimana internazionale dello scautismo. Sono stati oltre mille i ragazzi di diversi comuni etnei a festeggiare il compleanno del fondatore Baden Powell e che hanno preso parte a tante attività proposte durante la giornata. Il tema affrontato all'interno della giornata del pensiero di ieri è stato quello della prevenzione e protezione civile con l'obiettivo di formare il buon cittadino preparato e informato. L'evento ha avuto inizio con la Santa Messa presieduta da Padre Salvatore Ali per poi proseguire con diversi giochi mirati alla presa di coscienza dei rischi derivanti dai quattro elementi naturali. Cosa rappresenta per il mondo dello scautismo questa settimana dedicata a quest'evento? Rappresenta un momento importante non solo come ricordo del fondatore ma anche perché è stata scelta dagli scout di tutto il mondo come un momento in cui ci si riunisce per ricordare appunto il fondatore ma anche per un atto di solidarietà. In questa giornata viene raccolto il cosiddetto penni cioè un contributo per cui quest'anno abbiamo deciso per esempio di destinarlo ai paesi del nostro comprensorio che sono stati colpiti dal terremoto. Sono presenti 16 gruppi della zona Etna Alto Simeto e per Licodia è un evento eccezionale. Noi come gruppo scout non è da tanto tempo che siamo aperti come gruppo però piano piano Licodia si sta abituando alla nostra presenza. Sono stato scout già da piccolo, sono passati 30 anni però c'è sempre una chiamata verso questo mondo che è affascinante in quanto veramente si vivono delle esperienze uniche. È un modo per mettersi in gioco e dare il proprio tempo a disposizione dei ragazzi è sicuramente una bellissima esperienza.